Danny Walks Europe. È intitolata così la camminata solidale che il pesarese Daniele Grassetti farà dal 31 maggio attraversando gran parte del continente europeo. Circa 10.000 km per quasi 400 giorni di marcia, tra strade, sterrati e sentieri di montagna. Un'idea nata nel periodo di lockdown per alimentare motivazione ed entusiasmo, spingendolo poi a progettare questo viaggio in collaborazione con la cooperativa Alfa, che dal 2001 si occupa di persone affette da patologia psichiatrica. L'iniziativa nasce un anno e mezzo fa, quindi quando eravamo chiusi in casa diciamo che è stato un modo per cercare motivazione in un progetto che ancora non avevo neanche ben chiaro. Però intanto ho cominciato guardando un po' di mappe sui parchi che c'erano in Europa, vari cammini da fare. E poi la cosa mi è piaciuta e gli ho cominciato a unire, è venuta fuori l'idea di questi 10.000 km e mi è piaciuta molto, mi è piaciuto molto progettarla e così che mi sono convinto. Un progetto legato a questa salute mentale per quale motivo? Innanzitutto perché è servito a me in quel periodo per avere entusiasmo, per mantenere l'entusiasmo di tutti i giorni e poi perché stare in natura, dei cammini anche di più giorni, secondo me sono esperienze che fanno molto bene e specialmente in questo contesto storico in cui siamo abituati alla vita di città, ad avere sempre le ore serrate, è un ritmo che non è il nostro, probabilmente non è un ritmo adatto all'essere umano e forse un ritorno in natura invece è salutare. Si parte il 31 di maggio, quindi manca poco. Il 31 di maggio è la Pala del Pomodoro e da lì la prima tappa è fino a Morciano. Da lì in diversi giorni arriverò in Austria, poi dopo l'Austria Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Germania, Olanda, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo e prevedo i Balcani, non so se riuscirò a farlo, secondo me completerò 10.000 km prima di arrivare ai Balcani, però è già tutto mappato anche nei Balcani volendo. Il progetto prevede anche una crowdfunding, ovvero una raccolta fondi, che finanzerà sia il viaggio di Daniele che la cooperativa Alfa nelle loro iniziative. Il crowdfunding rimane attivo per tutta la durata del mio cammino, si dona in maniera molto semplice, basta andare sui miei profili social, si chiamano Danny Walks Europe, si sono su Facebook e su Instagram, c'è sempre un link, anche nella biografia c'è un link per la donazione. Noi abbiamo creato dietro l'attività di trekking che da anni facciamo, abbiamo fatto un'esperienza nel Cammino dei Briganti, tra Bruzza e Lazio dove assieme a un regista professionista abbiamo in qualche modo realizzato un documentario che si chiamano i Briganti. Daniele ha visto, ha avuto occasione di vedere questo nostro docufilm, si è ulteriormente appassionato anche al nostro tipo di lavoro e da lì è nata questa sorta facciamo qualcosa insieme ed è partito il tutto.